Modalità estiva acqua calda. Non importa dove vi condurrà il vostro prossimo viaggio, la modalità estiva del Dual Top vi garantirà l'acqua calda necessaria. E ecco come avviare la modalità di riscaldamento. Accertatevi che la pompa dell'acqua sia accesa. Controllate inoltre che nel boiler sia presente dell'acqua. A tale fine, impostate il rubinetto dell'acqua sul caldo ed apritelo fino a che dallo stesso esca dell'acqua. Ed ecco come avviare la modalità di riscaldamento. Nel menu, selezionate l'impostazione riscaldamento acqua e confermate con OK. Scegliete la temperatura dell'acqua tra 40 e 70 gradi e confermate la fonte di energia desiderata con OK. Se desiderate riscaldare elettricamente, accertatevi che il dispositivo mobile sia alimentato con corrente. Dopo l'accensione, il LED si illumina di verde e sul display compare l'impostazione selezionata. In base alla temperatura esterna ed alla temperatura dell'acqua selezionata, sarà necessario un tempo variabile tra 20 e 60 minuti. Il nostro consiglio per un corretto utilizzo, accendete il Dual Top con sufficiente anticipo per evitare di dover attendere prima della doccia. Il processo di funzionamento del Dual Top inizia immediatamente a riscaldare l'acqua contenuta nel boiler fino a 40 o 70 gradi e la manterrà a livello selezionato. Fintanto che la modalità estiva sarà attivata, avrete quindi sempre a disposizione acqua alla temperatura desiderata. Fintanto che la modalità estiva sarà attivata, avrete quindi sempre a disposizione acqua alla temperatura dell'acqua contenuta. Fintanto che la modalità estiva sarà attivata, avrete quindi sempre a disposizione acqua alla temperatura dell'acqua contenuta.